Eccoci qua, benvenuti all'oroscopo di novembre 2024. Vedremo innanzitutto il cielo del mese, vediamo un po' tutti i transiti, tutti i pianeti, quello che ci racconta l'astrologia un po' per tutti noi. Poi andrò a vedere ovviamente anche con i miei tarocchi, con tutte le mie carte, vedremo segno per segno ogni segno zodiacale. Quindi l'introduzione sarà ovviamente uguale per tutti il cielo del mese. Poi andremo a vedere il tuo segno zodiacale, va bene? Partiamo! Il cielo del mese di novembre, allora innanzitutto vede il movimento di Plutone. Plutone che apre il mese nell'ultimo grado del segno del capricorno. Tu sai, l'abbiamo visto ad ottobre, che Plutone è tornato indietro, era entrato in acquario, è tornato indietro, quindi ancora sta camminando nel segno del capricorno. Poi uscirà, quindi entrerà nuovamente nel segno dell'acquario il giorno 20. Ora parlare di giorni con Plutone sinceramente è un pianeta che si muove lentissimo, ci mette anni e anni e anni a muoversi. Comunque diciamo dopo la metà del mese di novembre Plutone rientra definitivamente in acquario e vi rimarrà per i prossimi 20 anni. Ok, Urano continua a camminare naturalmente in toro, Saturno in pesci, Giove ancora in gemelli, nella metà circa, insomma, nel segno dei gemelli. Ecco, i cambiamenti veri sono, vabbè, il sole e la luna lo sappiamo, cambiano continuamente. Mercurio che camminerà nel mese di novembre nel segno del Sagittario ed inizierà, ahimè, alla fine del mese il moto retrogrado. E voi sapete che quando Mercurio ammina in moto retrogrado ne porta di ogni, ma questo per tutti e per ogni segno giornale. Grazie a Dio però non fa mai danni proprio deleteri, almeno che non sia combinato, insomma, con altri transiti, no? Comunque, quindi Mercurio, diciamo, entra in Sagittario il 3, il 2-3 di novembre, quindi tutto il mese in Sagittario per Mercurio. Venere anch'essa camminerà in Sagittario fino al 12, quindi nella prima parte del mese di novembre anche Venere insieme a Mercurio in Sagittario. Poi Venere entrerà in Capricorno e Marte che apre il mese ancora in Cancro, sta camminando tutto ottobre nel segno del Cancro, ma a novembre entrerà in Leone, quindi bello, Marte in Leone e Mercurio in Sagittario, quindi questo trigono splendido nei segni di fuoco. Quindi questo è un pochino il cielo. Allora, dunque, la prima cosa che vedo, sinceramente, io vedo un po' questo, passami il termine, questo scontro fra io e noi. Qualcosa che già c'era stato in ottobre, se ti ricordi bene, per chi mi segue, ne avevamo parlato, no? Un po', vedremo anche a livello proprio mondiale, ma anche a livello nostro personale, quindi adattate un po' voi alla vostra vita. Qui ci sarà ancora questo discorso, ma in modo leggermente un pochino diverso. In che senso? Lo sto guardando qui un po' i pianeti. Allora, in che senso? Qui ci sarà qualcuno, parlo a livello mondiale, ma anche a livello personale, quindi adatta alla tua vita. Vedremo un po' la tematica io sono il re, io, io comando, io faccio come voglio perché sono il re. L'altro lato della medaglia, quindi l'altra persona, l'altra situazione, parlerà invece con il noi. Cioè, richiamerà questo io a noi. Come dire, oh, ma andovai? Tu stai con noi, tu devi fare quello che noi, non voglio dire quello che noi diciamo, ma quello che noi dovremmo fare, non tu, ok? Quindi io vedo un po' questo scontro nel mese di novembre, un po' come avevamo già visto per ottobre, sinceramente. Però magari qui con sfumature un attimino, un attimino diverse. Qui c'è molto, anche a livello proprio personale, ora vedremo anche con le carte, qualcosa che può portarti, allora, sicuramente lo studio, quindi lo studio avrà un ruolo molto molto principale, ma anche il lontano, tutto ciò che è lontano da noi, tutto ciò che è diverso da noi, quindi a livello mondiale, l'immigrazione, vi è da pensare appunto all'estero, a quello che accade, no? lontano da noi. Ma cos'altro? Guarda, novembre vedrà sicuramente uno scatto molto molto forte, anche dentro di noi, dentro ognuno di noi, della nostra personalità, del nostro orgoglio, per chi si può trattare di dignità, quindi uno scatto di dignità verso qualcuno, per chi di noi si può trattare di uno scatto della volontà, nel senso, faccio per fammi capire, parlare terra a terra, per chi veramente si potrà decidere ad abbandonare quello stile di vita troppo sedentario, per chi si può trattare di smettere di fumare, per chi di iniziare la palestra, per chi quello che ti pare. Comunicazioni che sicuramente arriveranno, ok? Quindi studio, il lontano, queste saranno le tematiche molto forti, ecco, l'estero, quindi tutto ciò che è lontano da noi, ma anche la comunità, quindi vedete di cosa si tratta, di quale comunità ti stanno parlando le stelle, per esempio, per chi si può trattare della palestra, per chi si può trattare della società di cui fa parte, va bene? Quindi un po' tutte queste cosette, voglio tirare un paio di tarocchi anche così, a livello proprio generale, vediamo un po' come sarà in mese di novembre per ognuno di noi. Ok, qui è volata questa carta a capovolta, vediamo un po'. A livello proprio generale, va bene? Aha! E il sei di coppe capovolte, e nel taglio c'era il re di denari. Allora, sicuramente qui ci saranno, come ti posso dire, delle, delle, sicuramente delle novità, quindi molti di noi cambieranno stile di vita, c'è un qualcosa che magari era già da tempo in ballo, un qualcosa che magari dovevamo già fare o avevamo dubbi, no? Se farla o meno o come farla, quando partire, eccetera. Ecco, il mese di novembre potrebbe far partire, diciamo, questa nostra azione, questa nostra volontà, questa nostra situazione. Qui ci sono delle novità, quindi un nuovo percorso, un qualcosa di nuovo che potremmo intraprendere, sia a livello proprio economico, quindi con degli investimenti, sia a livello proprio personale. Poi, per chi andrà in un verso, per chi in un altro, la vedremo per il tuo segno zodiacale nello, nello specifico. Ovviamente qui il mese di novembre vede i segni d'aria abbastanza, non dico troppo, ma abbastanza favoriti. Non troppo, perché c'è comunque ancora questo Saturno dai pesci, insomma, ecco. Però, penso al Gemelli, penso all'Acquario, penso alla Bilancia, che avranno sicuramente questo ritorno di Plutone molto favorevole, poi questo Giove in Gemelli che ancora li aiuta, senza contare i Mercurio e Venere dal Sagittario, quindi per la Bilancia in special modo, ecco, e anche per l'Acquario molto, molto favorevole. Poi saranno ovviamente ancora favoriti, mi vien da pensare ai segni di Terra con questo Urano, un Toro, quindi la Vergine, il Capricorno, eccetera. Il Capricorno ha maggior ragione perché Plutone se ne va e entra in Acquario e via dicendo, ma andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale cosa questo cielo, ma cosa anche i Tarocchi hanno da dire per te, va bene? Eccoci qua, cara Vergine, vediamo il tuo mese di novembre, partiamo dagli Oracoli volume 1. Abbiamo visto un po' le stelle, sicuramente Plutone ancora dalla sua, Urano in Toro si aiuteranno senz'altro ad affrontare ancora questa opposizione che hai, insomma, di Saturno dai pesci, però ecco, per contro qui ci sono molti movimenti che ti saranno favorevoli, va bene Vergine, ma andiamo a vedere cosa hanno da aggiungere al cielo del mese le mie carte. Vediamo, mese di novembre, la costruzione, allora qui la Vergine si sta dando sicuramente da fare, qui ci sono molte cose che tu porterai avanti, sicuramente qui, insomma, a portare qui tutti questi scatoloni, un po' di fatica l'abbiamo durata, quindi sicuramente qui c'è una Vergine che lavora, che si dà da fare, che si porta sulle spalle un peso, diciamo così, non indifferente, e via dicendo, però per contro qui i risultati dovrebbero arrivare, no, dei nostri sacrifici, dei nostri sforzi, diciamo. Qui c'è, sicuramente ci sono delle responsabilità, ci sono tante cose che la Vergine sta facendo, cioè qui la Vergine sta facendo un bel mazzo, però insomma, qui non escludo che si possa arrivare anche a vedere, concretizzare qualcosa, cioè qui costruire è ovvio, no, per costruire una casa insomma, gli sforzi ci sono, non è che viene da sé, ma vediamo cosa hanno da dire i tarocchi. Mese di novembre per il segno zodiacale della Vergine. Vergine novembre. Ok, è uscito il 2. ma allora, guarda, qui la Vergine qualcosa ha perso e parlo al passato, qualcosa ha perso, c'è stata una perdita magari semplicemente se vogliamo parlare di questa costruzione, quindi di lavoro, qui ci può essere una Vergine che ha calato qualcosa da un qualche tipo, c'è stata una perdita, magari è diminuito il lavoro, si è guadagnato meno, abbiamo fatto meno, ok, quindi qui c'è stato una diminuzione, diciamo, una perdita di un qualche tipo, perdita che qui da come stanno parlando queste carte potrebbe essere recuperata, ci vorrà un po' di tempo, un po' di tempo ci vuole sicuramente, però qui c'è un aumento, ecco perché la costruzione, io credo che quindi qui la Vergine si sia resa conto di essere, sto parlando al passato, di essere rimasta un po' indietro per un qualcosa, quindi un poco lavoro o un poco denaro, che ti devo dire, insomma, tu lo sa, te, la tua vita, va bene, e che quindi si sia data da fare, qui c'è la costruzione e la costruzione implica, come ti stavo dicendo, un sacrificio, un qualcosa di responsabilità, ma qui il miglioramento c'è, qui vedo che hai fatto un qualcosa che viene apprezzato da qualcuno, ok, non escludo addirittura che ti possa arrivare una proposta o che ci sia già in ballo, insomma, una proposta da qualcuno per una collaborazione se vogliamo guardare sempre questo lavoro, sempre questa costruzione, qui c'è un miglioramento nelle entrate, quindi un aumento di entrate economiche, un miglioramento dal punto di vista appunto economico, finanziario, quindi qui c'è un qualcosa di questo tipo, c'è anche un impegno non indifferente da parte della Vergine, come ti ho detto prima, va bene, però c'è anche questo aumento, questo miglioramento, c'è una collaborazione che tu potresti intraprendere con qualcuno e via dicendo, quindi il lavoro io lo vedo andare a migliorare, si va in meglio, va bene, in questo qualcosa di positivo, se la vogliamo leggere, ora vedremo anche con le sibille, dal punto di vista affettivo, guarda, qui ci può essere una nuova conoscenza che la Vergine può fare, si può conoscere persone nuove, ci può essere qualcuno che ci cerca, magari forse proprio per vederci, un qualcuno che è affascinato da noi, in tutti i sensi, non è detto si parli solo di un discorso sessuale, di attrazione sessuale, quindi un qualcuno che è attratto da noi perché ci trova simpatici o perché siamo bravi di un qualcosa, insomma, ecco, quindi questo sicuramente, qui vedremo degli amici, può arrivare un invito da parte di un amico o di un amico o di un gruppo, via, o di un gruppo di amici, ok, e via dicendo, ma, senza ma, quello che vedo in modo proprio più chiaro che proprio più mi salta agli occhi è proprio questo miglioramento di una situazione che si era un po' deteriorata in passato, qui c'è una ripresa, ecco, vedi te di cosa ti parlano, una ripresa economica sicuramente, ma anche una ripresa fisica, magari, non lo so, tu decidi, non voglio dire di metterti a dieta, anzi, sta attento perché tu potresti andare a mangiare di più, sta attento, magari tu non hai bisogno, per carità di Dio, però, capiti che ti voglio dire, quindi qui ci può essere qualche vergine che ingrassa, per esempio, insomma, stiamo attenti, va bene, andiamo a vedere, vergine novembre, però, insomma, ecco, qui si va verso il bene, verso il meglio, anche se a costo di un impegno maggiore da parte della vergine, qui le cose sono chiarissime, qui si potrebbe, sai anche cosa, far sentire, far sentire o far risentire un qualcuno con cui abbiamo avuto una fresca di un qualche tipo, capito, una persona, insomma, con cui, ahum ahum, con cui abbiamo, insomma, una certa attrazione, un certo rapporto, va bene, ma insomma, qui molto vedo gli amici, vedo questo miglioramento lavorativo e questo miglioramento economico per la vergine, andiamo a vedere le sibille cosa hanno da aggiungere a questo quadro, mese di novembre per la vergine, segno zodiacale vergine, mese di novembre, ok, la riunione, la riunione, io ho fatti, ti ho detto, c'è qualcuno che si rifà vivo, un personaggio, guarda, che si rifà vivo con cui ci rivedremo, però, attenzione, qui può essere, sì, sicuramente un invito da parte di una persona a cui piacciamo, cioè che ci desidera, ma può essere anche semplicemente, insomma, ecco, diciamo un'amicizia speciale, la riunione, la leggerezza, il pensiero, la giovane fanciulla, vedi, guarda, ci può essere la sorpresa, proprio qui è volata, anche insomma, vabbè, l'amore, ok, quindi una rimpatriata, diciamo, con qualcuno, ma qualcuno che può essere semplicemente amicizia, attenzione, qui si rivede qualcuno, magari un qualcuno con cui era saltato un appuntamento, perché io vedo anche questo, se te hai avuto, non è che novembre ci parla solo di questo, ma c'è anche questo, se hai, avevi un appuntamento con qualcuno che ti è saltato, magari c'era stato un invito che però poi è saltato, non abbiamo potuto fissare un qualcosa, la cosa avverrà adesso, nel mese di novembre, quindi anche questo, aspettacelo, va bene? Quindi ti arriverà, ti arriverà anche questo, non so perché c'è questa sorpresa, magari sì, tu ci pensi, però insomma, ecco, tu verrà a sapere qualcosa, questa giovane fanciulla, potresti non essere te, semplicemente ci può essere questa sorpresa che ti arriva da parte di questa giovane, di questa giovane donna, vediamo anche gli oracoli dell'amore che non parlano solo d'amore ovviamente, fammi vedere un po' la vergine, vergine, mese di novembre, vergine, mese di novembre, qualcosa di veramente speciale, vedi, che accade, qui c'è un qualcosa che ha a che vedere anche con la casa, non so se tu stai sistemando casa, se tu fai qualcosa con la casa, vedi anche questo, allora, qualcosa di veramente speciale, ti trovo molto attraente, infatti abbiamo visto questo personaggio, no? Ecco, e tu potresti rivedere dove qui c'è la riunione, tutti gli occhi sono puntati su di te, quindi magari qualcosa insomma, di positivo, no? Che abbiamo visto che accade, qualcosa che ti va a migliorare, magari forse proprio sul lavoro, no? Tu verrai apprezzata in qualche modo, vergine, va bene? Andiamo a vedere. E c'è anche questo appuntamento che era saltato in precedenza, si ripetono gli stessi errori nel senso che qui potremmo riprendere le fila che avevamo perso. Voglio vedere anche i segni zodiacali per la Vergine, fammi vedere. Con quale, questa è bellissima, eh, la riunione. E la sorpresa. belle, vediamo. Con quali segni zodiacali avrà a che fare la Vergine mese di novembre? Fammi vedere. Mese di novembre per la Vergine. ok, il leone. Con quali segni zodiacali avrà a che fare la Vergine? Vediamo per novembre. Questo niente, va bene. Vergine novembre. Questi due, niente. Mese di novembre. con quali segni zodiacali avrà a che fare? Vediamo. Leone, sagittario. Ah, due segni di fuoco, eh, però. Vediamo con quali segni avrà a che fare la Vergine. Con il toro, con la bilancia, toro, bilancia, gemelli, acquario, Vergine, gemelli, vengono subito confermati, cancro, quindi toro, bilancia, gemelli, eh, vergine, leone, sagittario, cancro, acquario, con quali segni zodiacali, ariete, Vergine e acquario confermati. Mi fermo. Guarda, qui c'è la, c'è anche la ripresa, come ti ho detto, un qualcosa, io vedo la sorpresa. La sorpresa qui è forte e chiara, si vede in diversi, in diversi ambiti. Quindi, preparati ad essere sorpresa, cara la mia Vergine, in special modo, se non te la stai passando bene. Quindi, se tu pensi, oddio, ma io non è possibile, qui va tutto male. Bene, ecco, se questa è la prima reazione che hai, stai pur tranquilla, che tu verrai sorpresa da un qualcosa di positivo, da un qualcosa di veramente speciale. Che si parli di riunione con qualcuno, quindi il rivedersi con qualcuno, anche un amico, un'amica carissima, per l'amor di Dio, insomma, però con cui passeremo dei bei momenti. Qui ci sono dei momenti proprio di leggerezza, di divertimento, quindi si starà assolutamente bene. Se tu sta passando, ti ha passato un periodo, insomma, un po' così, a maggior ragione, la cosa sarà, sarà per te favorevole, sarà per te positiva. guardati l'ascendente e la luna, metti tutto insieme e vedi cosa ne esce fuori. Comunque, qui si arriva ad un risultato, qui si sta costruendo qualcosa, stiamo dando molta energia, molto impegno, però vedremo realizzato un nostro desiderio. Facci sapere, mi raccomando, Virgini, va bene? Io ti aspetto qui, eh, al prossimo video. Ciao!